Forti di tutti, più forti di tutti, più forti di tutto e di tutti, spegnete la televisione, spegnete, guffi di metodo, è questo qua il tasto, è quello rosso, spegni, spegni, ma vieni, ma vieni, siamo sempre qua, siamo sempre qua, siamo gli ultra, siamo gli ultra, in ogni stadio, ogni città, io canterò, io canterò, con la pioggia e il sol, con la pioggia e il sol, magica interfaccio. E andiamo, e andiamo, grande vittoria dei ragazzi, grande vittoria dei ragazzi, partita difficilissima, vinta contro le pressioni che ci hanno messo questi bastardi, contro un regolamento, un calendario, tutto contro di noi, tutto contro, veramente, questi trovano un appiglio per venirci a rompere i coglioni a noi. Sì, oggi un arbitraggio indegno, indegno veramente, indegno veramente, adesso ci arriveremo, come sempre, non è una novità perché tanto agli altri danno, fischiano le partite quando ci sono gli attaccanti dell'Empoli che stanno tirando in porta, gli danno i rigori, gioco pericoloso, quando in realtà il gioco pericoloso lo fa Chier di testa e non Ferguson col piede, insomma, agli altri danno i rigori che non esistono, a noi invece tre, tre episodi, eh, tutti al VAR, tutti a esaminare il pelo del culo del VAR, a noi, a noi tutti ce li danno, a noi incredibile, veramente. Finché poi è la marotta lì, andate a fanculo, andate, grande Inter, grandissima Inter, la partita che mi aspettava, una Fiorentina che ha tenuto il pallone del gioco, il pallino del gioco, primo tempo dove dovevamo stare almeno almeno 2-3 a 0 perché abbiamo, sul piano dell'occasione, abbiamo dominato, non sul piano del gioco perché comunque a Fiorentina sapevamo che comunque è in casa, aveva il pubblico dalla sua, doveva fare la partita come fa sempre in tutte le partite in casa e comunque, bravissimo Inzai che tatticamente ha gestito la partita alla perfezione, ci siamo messi un attimino più accorti quando ci dovevamo accorgere dietro e poi siamo ripartiti e abbiamo creato una caterva di palle e gol purtroppo, tante imprecisioni sottoporta stasera, tante imprecisioni sottoporta non solo nelle conclusioni ma anche nei tocchi precedenti, negli ultimi passaggi, negli ultimi metri, veramente non eravamo tanto lucidi, complice un periodo di stanchezza clamoroso che viene dalla Supercoppa, infatti ha fatto bene il mister poi a togliere Lautare e Turam, comunque mettendo dentro Sanchez e Arnautic che uno dà volume e l'altro dà un po' di ripartenza e Darmian era cotto, Darmian cottissimo, infatti c'erano delle volte che non seguiva neanche le azioni, io non lo so perché, ma io veramente non capisco perché Darmian lo spreme così tanto Inzai, una cosa che gli rimprovero è perché spreme così tanto Darmian, cioè anche oggi mettevi Dumfries è entrato bene comunque, l'hai visto che è entrato bene, mettevi Dumfries al primo minuto poi magari buttavi dentro Biucana agli ultimi 15 minuti, adesso per farti magari, magari sai ti dava quegli sprazzi 10 minuti, cioè Darmian è stremato oggi, veramente stremato perché in fase difensiva fa sempre il suo, ma in fase di spinta lo vedi che è stanco, cioè poi del resto comunque una bella Inter perché comunque vinciamo di misura, finalmente vinciamo una partita 1-0, penso che non era mai successo, a parte col Napoli, no aveva già vinto 1-0, non so che manco mi ricordo, non mi sembra comunque, ah sì con la Roma però comunque erano tutte partite dominate, oggi aveva vinto 1-0 invece giocando minimo sforzo massima resa, ecco minimo sforzo massima resa, anche se comunque l'Inter sul piano dell'occasione ha dominato, meritavamo noi di vincere sicuramente, e la Fiorentina ha fatto la partita che doveva fare, però poi nel primo tempo veramente tu Ram lì che inciampa, tu per tu con Terracciano lì con le scarpe, figa veramente, poi il campo del Frank è un campo di patate, veramente, c'è la palla che rimbalzava a cazzo di cane, veramente una vergogna, poi Frattesi dove Lautaro recupera una bellissima palla sull'angolo, Bastoni la mette dentro, Turam li la mette di petto dietro, arriva Frattesi, la tira un po' troppo centrale, Turam in contropiede la mette dentro per Carlos Augusto anticipato, insomma potevamo fare benissimo 3 gol, veramente, soprattutto nel primo tempo e nel secondo tempo ci siamo un po' più abbassati, ma comunque la tattica del mister ha pagato, andiamo a vincere, andiamo a vincere, capolisti a più uno, a più uno con una partita in meno, a più uno con una partita in meno, vinciamo senza giocare, ok, perché ci siamo rotti il cazzo, perché agli altri danno rigori, i clama scandalosi, a noi invece ci devono andare ad analizzare pure il pelo del culo, oggi ma mi venite a dire come si fa, come si fa a dare un rigore del genere come quello che ha dato alla Fiorentina, poi lascia perdere che Nico González ha un bidone, poi Sommer l'ha ipnotizzato, ok, però io veramente, noi ci siamo rotti le palle, non è possibile, non è, è uno scandalo unico quest'anno, un furto ai nostri danni ogni giornata, gli altri li aiutano sempre, e la Marotta League di sto cazzo, la Marotta League è un tentativo, ripeto, io ripeto le stesse cose che dico da inizio anno, la Marotta League è un tentativo di coprire, di insabbiare, la vera porcata che stanno facendo questi due, i due gemellati di quest'anno, ma come si fa? Sommer cosa doveva fare lì? Se Anzola arriva in ritardo, Sommer prende la palla, eh, cosa fa? Deve muovere il braccio in mezzo secondo? Ma di che cazzo parliamo? Sommer fa il portiere, la palla l'ha presa col pugno, se c'era Anzola dietro non ci può fare un cazzo il portiere, ma dove cazzo siamo qua? Ma basta, questo non è più calcio, e non c'entra il regolamento, è un errore dell'arbitro, è un errore del VAR, ci siamo rotti il cazzo, perché come fa a essere di gole quello lì? Poi stessa cosa, qua intanto poi la Fiorentina è vergognosa, cioè ogni palla dentro si buttavano, almeno in 4 o 5 erano per terra, cioè veramente a Firenze e tra la tribù ci sono i cecchini praticamente, di fianco alla tribù una stampa c'è la torretta che spara a tutti i giocatori con la maglia della viola, è uno scandalo, Parisi lì per terra come un pirla sul gol di Lautaro, il Torito ancora decisivo, 21 gol stagionali, il Toro Loco, che fa ballare la samba a tutti, fa ballare il tango a tutte le difese, golasso della Madonna, su una bella palla di Aslani dal calcio d'angolo, un'incornata in anticipo sul primo palo, che manda fuori gioco tutta la difesa, e anche Terracciano, e lì dov'è la spinta? Cioè lì gli tocca il collo, a Parisi, Parisi si butta per terra, mezz'ora a toccarsi la gola, cioè, toglitelo al nasino rosso, respiri ancora caro mio, eh Parisi respiri ancora, però quando cambiaso ti ha cintuolo, ti ha buttato per terra lì, con la gomitata lì, però ti sei alzato subito, coglionazzo, che non sei altro, eh? E allora vai a fare in culo, va che siete uno schifo, siete gemellati loro siete, i loro zerbini, cioè noi sapevamo che fosse i loro zerbini, perché sai con Chiellini, Baggio, Quadrado, Bernardeschi, Vlaovis, tutti i giocatori che li mettono a regalare, perché voi fate quelli che sono contro i gol, però poi gli andate a regalare i giocatori, perché voi fate così, no? Cioè ma, noi sapevamo che fosse la loro succursale, ma non ho questi livelli, cioè tutti questi qui, un calcio piazzato, tutti cinque, cioè, cinque giocatori per terra, veramente è una cosa vergognosa, oh, una cosa vergognosa, Parisi che si butta per terra, quella è trattenuta regolare e reciproca, non è mai rigore, ma che dopo voi dove cazzo vivete? Ma tanto, tifosi che parlano di regolamento, quando ieri hanno esultato al gol di Tevernandez, dove dopo il rigore, la palla va sul palo e la riprende Tevernandez, questi hanno pure esultato, ma ci rendiamo conto, no? I grandi competentoni che fanno i fenomeni, questi non sanno manco le regole, dei pulcini del calcio, questi milanisti di merda, gli altri gobbi che parlano, che rubano da una vita, e rubano ancora oggi, perché veramente quella di sabato, ragazzi, il tiro lì di Cancellieri, grida vendetta, perché penso si segnava, grida vendetta, a parte tutto, oggi poi tantissimi falli non fischiati, alla fine c'era un fallo su Frattesi, lì che stavamo andando in porta, non fischiato, riparte la Fiorentina, De Vrij si sarà preso almeno 5 o 6 falli, Danzola, neanche fischiati, ma veramente, ma qua basta, ma qua basta, comunque del resto, Sommer, grandissima partita, fa una grande parata nel primo tempo, su Buonaventura, del resto, sul gol in fuorigioco loro, sì, sotto le gambe, però non ha fatto, sì, un brivido inizio partita, lì che mi stavo già cagando addosso, comunque bene, la difesa, la difesa lì, ecco, la difesa, praticamente, Inzaghi, cos'è, ha sofferto un po' le ultime scelte di Italiano, perché Italiano è partito dove ha schiarato praticamente titolare Beltran, quindi giustamente Inzaghi fa, gioca a Beltran, che non è un centroavanti fisico, possono mettere De Vrij, perché sappiamo benissimo che De Vrij, con i centroavanti fisici, soffre tantissimo, invece poi, notizia degli ultimi minuti, prima della partita, ha messo Nzola, quindi, la Fiorentina ha giocato con Icone, Icone e Buonaventura sulle fasce, Beltran, tre quartiste, davanti Nzola, e lì Inzaghi si è trovato un po' spiazzato, perché comunque, aveva preparato la partita con, davanti Beltran, quindi ci sta che De Vrij ha sofferto un po', abbia sofferto un po' Nzola, perché De Vrij con i centroavanti fisici soffre sempre, è un suo parametro, con Acerbi, sarebbe sicuramente andato meglio, ma comunque il gol non l'abbiamo subito, senza problemi, senza, ma alla fine neanche senza rischiare tanto, cioè alla fine si abbiamo sofferto, ma più che caso abbiamo sofferto, perché, loro sono forti di testa, quindi, con qualche lancio, hanno giocato sull'intensità, però alla fine di occasioni vere, 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 mi ricordo quella grande parata di Sommer, due salvataggi fantastici di Pavard, uno, vabbè, a gioco fermo prima del rigore, l'altro, in scivolata, fantastico, un salvataggio bellissimo di Bastoni, che ha fatto una grande partita, non so perché l'ha tolto, io l'avrei tenuto dentro, perché comunque è l'unico che non ha giocato neanche in Supercopa, però deve, chiaramente deve recuperare per gradi l'infortunio, quindi, ci sta che il mister lo preservi, e anche oggi il mister, grandissima, ennesima gestione perfetta delle energie, Carlos Augusto, allora, poi, vabbè, del resto Pavardo, che l'abbiamo detto, devrà, l'abbiamo detto, sì, Carlos Augusto, primo tempo, allora, Carlos Augusto, difensivamente, non c'è un cazzo da fare, è forte, però davanti, davanti, veramente, anche lì, poteva tirarla, messa dentro, lì nel primo tempo, dove lì doveva sparare, un siluro sul primo, ecco da lì, deve fare come Darmian, quando è in area di rigore, Darmian, quando è in area di rigore, delle volte, prova il tiro, prova la silurata, o la silurata sul primo palo, o la silurata sul secondo palo, le silurate quelle potenti di Darmian, dovrebbe farlo anche Carlos Augusto, quando arriva lì, negli ultimi invece, delle volte, tende sempre o a mettere la palla dentro per Turam, o a fermarsi, o ad accentrarsi, invece deve giocare un po' più semplice, più da lì bisogna tirare, quindi Carlos Augusto, davanti alla porta, è ancora un po' troppo acero, però del resto, se ho fatto una grande gara, sicuramente, però ecco, io magari avrei messo dentro, no vabbè no, Di Marco non l'avrei messo, no non è vero, però sicuramente ecco, con Di Marco, secondo me, poteva vincere anche 2 a 0, perché comunque, lì sulla sinistra, è quello il punto dove si crea tanto, e lì è quello lì, e noi sulla sinistra, noi centrocampo, fascia sinistra, è lì dove si crea, quindi, perché abbiamo i piedi di Di Marco, e la mente di Cialanoglu, oggi comunque, con Carlos Augusto, normale che su quella fase di spinta, avevi di meno, come anche sulla destra, con Darmian, perché era stanchissimo, detto questo, centrocampo, a me sicuramente è piaciuto, Aslani, ha fatto una buona partita, certo, i ritmi non sono quelli di Cialanoglu, Mkhitaryan, benissimo, i primi minuti, poi dopo ha sbagliato, 2 o 3 tocchi in ripartenza, veramente non da lui, non da lui, ma comunque nel complesso bene, Frattesi, a me invece non mi è piaciuto tanto stasera, no, perché, a parte che comunque sicuramente, negli inserimenti è fortissimo, è il suo punto di forza, forse con Cialanoglu, avrebbe trovato magari anche, anche più occasioni, però, Frattesino, Davidino Frattesi, deve imparare a giocare più semplice, più veloce, cioè più semplice, perché, delle volte il colpo di tacco, il dribbling, perde la palla, poi riparte la Fiorentina, anche oggi ha perso un sacco di palle sulla mediana, noi siamo un centrocampo forte, perché, negli momenti dove non ci pressano, giochiamo semplici, nemmeno in porta, con i lanci, invece, Frattesi, delle volte, ha scelto un po' il tocco lezioso, e ha perso un sacco di palloni, quindi, quello oggi, Frattesi, non mi è piaciuto tantissimo, però, gli inserimenti sono un suo punto di forza, infatti ne ha fatti due o tre, anche importanti, non visti, né da Aslani, né da Mkhitaryan, né neanche da Carlos Augusto, comunque, vabbè, del resto tutto a posto, del resto siamo contentissimi, vittoria, importante, pesante, pesante, primo step fatto, ci vuole il secondo step, la settimana prossima, ragazzi, la settimana prossima sarà il secondo step, importantissimo e decisivo, perché se vinciamo, in casa, contro quelle merde lì, ragazzi, mamma mia, mamma mia, se vinciamo settimana prossima, io lo dico qua, il 60% dell'obiettivo potrebbe diventare verde, io lo dico qua, perché se vinci, adesso loro sono col morale totalmente in down, perché, minchia, secondi con una partita in più, se gli devi dare la botta, la mazzata finale, la devi dare settimana prossima, settimana prossima, proprio gli devi stanare come basta, proprio settimana prossima, gli devi dare proprio di quelle randellate, di quelle martellate, proprio in testa, settimana prossima, carichiamoci tutti, mi raccomando, mister, chiudiamoci a Riccio, perché tenteranno di romperci il cazzo, le gomitsulle, sulla trattenuta di Lautaro, cercheranno di metterci veramente tanta di quella pressione addosso, che solo loro potranno, cioè cercheranno di farcene in questa settimana qua, di tutti i colori, chiudiamoci a Riccio, mister, chiudiamoci tutti, chiudiamo la chiave dello spogliatoio, campo, spogliatoio, campo, spogliatoio, campo, spogliatoio, perché bisogna vincere, contro, un'associazione a delinquere, che è presente in questo paese, da quando è nata, uno schifo, per vincere, per far vedere al mondo intero, come cazzo è fatto il calcio pulito, sempre forza Inter, e poi vabbè, gli attaccanti davanti, vabbè, Turam, ragazzi, Turam quando a campo è devastante, io ho sempre detto, insomma, un crack vero, negli ultimi metri, anche se, un po' impreciso anche lui, poi riesce, ha zappato quella zolla di terra lì, peccato, perché quello era il 2-0, perché lì davanti alla porta, poi non sbaglia, Arnauto, è entrato benissimo, ha fatto quello, stava assegnato in fuorigioco, con un grandissimo tocco di suola, Lautaro, sempre decisivo, sempre più bomber, super a Vieri, 124 gol, ennesimo record, che eguaglia pure quella merda di Argentino lì, l'altro Scinocchio, non so se lui cos'era, 125, non lo so, mi pare 124 anche quella merda lì, il parigino che adesso è il Galatasaray, comunque grandissimo il Toro, golasso, fantastico, da capitano, da numero 10, da bomber, da leader, che anticipa tutto il suo primo palo, è una bellissima palla di Aslan, una bellissima pennellazione, di Cristianino Aslani, schema approvato in allenamento, con l'autora che fa il centro a Boa sul primo palo, forza Inter, forza ragazzi, vittoria importantissima, amala sempre, dai ragazzi, forza ragazzi, bene, bene, godo, sono contentissimo, godo contro quelle merde che hanno rubato, mamma che bello, mamma che bello, mamma che bello, e anche oggi, ce ne ha fatte passare tutti i colori, stasera, arbitraggio indecoroso contro di noi, ennesima puntata del dossier, che tra poco uscirà, devo ancora lavorarci, perché è lungo da fare, tra poco uscirà, sempre, forza Inter, contro tutto e tutti, gufi di merda, il tasto è quello rosso, ve l'avevo detto su Instagram, dopo le 10, la televisione va spenta, perché il Gaviscon, va preso a stomaco pieno, merde, ossessionati, ciao, Manfredi, hai avuto una bella settimana di merda, la tua squadra di merda ha pareggiato, la tua squadra ha del cuore, che i gobi, perché alla fine loro, ormai sono i tuoi, capito, ormai loro sono, hanno preso il posto della tua squadra di merda, che tifi, hanno pareggiato, e l'Inter, e l'Inter te l'ha messa dentro al culo, tutta potente, forza Inter, ciao ragazzi,